un segnaletto buono ma è una zona un pochino particolare infatti qua è una bella spatoletta di tonno di che marca è vediamo ancora maruzella sono abbonato alla maruzella io ne ho trovate due ieri e una oggi forse ero pieni almeno metti via, chiudi buco andiamo avanti perché c'è un po' di letta maglie che sta avvenendo per me non 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 Grazie. 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 Vai avanti. Vai avanti. Centino. Vai avanti. Continua a fare. Non è preoccupare. Ora ci arrivo. Tanto ci arrivo. Tanto ci arrivo. Infatti. Un pezzo di spagnola. Madonna quanti robi. Ok. Qua stiamo più. Più liberi. No. Guarda qui. tutto il prato non c'era una minchia ora vediamo cosa c'è qua qua dovrebbe essere forse no vediamo vediamo per l'altra notte non capisco dov'è un attimo e che cazzo è un po' come un segno di qua un po' come un segno di là è stato scavato un bunker qua una crania questi che girano in moto spassano no quella macchina si è una lattina una bella lattina una lattina di fanta degli anni 70 mettiamo in saccoccia chiediamo il cratere questi che altri allora andiamo puoi vedere anche dove siamo come va con i scarponi? sopravvivo che numero hai di piedi? 38 e quello è? 44 perfetto no sei famosa da dio non è male che le api portano bene d'estate d'inverno non è che la roba da sotto si scosta d'estate d'inverno vabbè niente cambiamo zona ci vediamo al prossimo target ciao